amiche e amici tifosi pisani buon venerdì siamo ancora qui di nuovo per questa analisi della 32esima giornata di serie b lo studio 31esima giornata direi che è andato bene vi lascio il video qua sopra nelle schede dove abbiamo preso tutti i pronostici 1 e metà dei pronostici 2 questo turno è molto più difficile da capire e da analizzare sono partite molto molto delicate scontri diretti molti molte squadre in crisi che si devono rilanciare comunque noi ci proviamo lo facciamo per giocare intanto vi invito ad iscrivervi al canale a mettere un mi piace sul video ma soprattutto a commentare con i vostri pronostici per giocare così insieme a voi iniziamo con benevento spal già questa prima partita è già difficilissima due squadre in fondo alla classifica due squadre che vengono a spalla da un pareggio contro la ternana il benevento da una sconfitta dolorosa a bari perché oltre alla sconfitta sono stati due rossi e l'infortunio di un difensore giallo rosso quindi un benevento che oltre in crisi di risultati sarà anche in profonda emergenza di giocatori per questo il mio pronostico 1 è un po un contro pronostico perché è un x2 under 4 e mezzo secondo me il benevento potrebbe anche non portare a casa neanche un punto in questa partita mentre la spal vista con la ternana non ha giocato male quindi potrebbe anche strappare il punto addirittura tre sul ciro a ciro vivorito di per evento pronostico 2 non prevede una partita assolutamente scoppiettante multigol 1 3 passiamo a brescia ternana il brescia viene da con la combolesca sconfitta ad ascoli per 4 a 3 e dove però secondo me ha fatto vedere dei qualche timido segnale di risveglio la ternana ha riacciuppato il pareggio negli ultimi minuti a ferrara mio pronostico è un 1 x penso che il brescia possa ricominciare a far punti specialmente sul proprio campo contro la ternana e quindi anche il pronostico 2 di conseguenza multigol 1 3 casa cittadella parma il cittadella viene da un pareggio sempre in emilia a modena per 0 a 0 mentre il parma viene da una buona vittoria contro il palermo in casa nello scorso turno per 2 a 1 una partita che prevedo abbastanza chiusa a guardinga pertanto dico che nel primo tempo under 1 e mezzo mentre nel secondo tempo over 0 5 sostanzialmente vuol dire che si potrebbe sbloccare tutta nel secondo tempo e infatti di conseguenza il pronostico 2 con un multigol 1 3 secondo tempo como genoa il como viene da una sconfitta venezia mentre il genoa dalla vittoria in casa contro la regina un genoa sempre più lanciato consolidando la seconda posizione ma con il rallentamento del frosinone si sta avvicinando anche al primo posto pertanto prevedo che la squadra ospite possa sicuramente segnare mentre la squadra di casa stia sotto i tre gol immagino un genoa comunque una fase difensiva è molto e molto solido pertanto non prevedo che prenda molti gol e quindi pronostico 1 è un under 2 e mezzo casa più over 0 5 ospite di conseguenza pronostico 2 multigol 1 3 ospite frosinone ascoli uno fisso il frosinone deve riprendere a far punti l'ascoli viene dalla vittoria per 4 a 3 contro il brescia ma il frosinone anche visto a perugia non può perdere altro terreno dopo anche la sconfitta contro il cosenza di due turni fa prima della sosta pertanto per me è un uno fisso frosinone ascoli con un frosinone che secondo me dovrebbe anche un attimo legittimare poi anche la vittoria pertanto il pronostico 2 è un multigol 2 4 casa perugia modena due squadre che vengono da due pareggi contro la capolista frosinone perugia contro il cittadella il modena perugia che ha fatto vedere delle buone cose effettivamente contro il frosinone un modena un po assopito contro il cittadella pertanto il mio pronostico 1 è un 1 x under 3 e mezzo mentre il pronostico 2 ovviamente anche qui è una conseguenza multigol 1 3 regina venezia la regina non smette di perdere aveva veramente un periodo nero per quanto riguarda la squadra di inzaghi mentre il venezia è una squadra anche anche molto altalenante che alterna risultati positivi a risultati molto negativi pertanto io prevedo che la regina possa rifare tre punti contro il venezia pertanto in uno fisso pronostico 1 e anche qui potrebbe però essere una partita tirata da gol anche anche 2 a 1 comunque sicuramente la regina potrà fare più di un gol pertanto il mio pronostico 2 è multigol 2 4 casa su Tirol Bari è una partita di cartello si sfidano per sostanzialmente la terza quarta posizione prevede una partita molto molto lottata e molto molto combattuta pertanto il mio pronostico 1 è gol quindi entrambe le squadre segnano e il pronostico 2 è un multigol 2 4 in generale per quanto riguarda Pisa Cagliari come vedete non si sblocca nessun risultato per vedere il pronostico di Pisa Cagliari vi dovete iscrivere al canale Telegram un tifoso pisano lo trovate vi iscrivete e oltre al pronostico di Pisa Cagliari che non do qua su YouTube troverete anche due proposte per giocare insieme ricordo la scorsa settimana una delle due proposte è stata presa quattro partite per entrambe le proposte pertanto Pisa Cagliari qua non ve l'analizzo né passiamo e chiudiamo con Palermo Cosenza il Cosenza viene da due vittorie consecutive contro il Frosinone contro il Pisa il Palermo viene dalla battuta d'arresto di Parma quindi io non credo che Cosenza possa ripetersi di nuovo sul campo tra l'altro in trasferta pertanto il mio pronostico 1 è un 1x pronostico 2 multigol 1-3 casa questa un po' l'analisi della 32esima giornata ricordo che per Pisa Cagliari vi dovete iscrivere e aggiungere al canale Telegram direi che abbiamo fatto un'analisi completa di tutte e 9 le partite del turno di Pasquetta pertanto vi auguro una felice e serena Pasqua a tutti voi a tutte e a tutti i tifosi pisani l'invito ad iscrivervi anche al canale di Youtube a mettere mi piace al video e a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate voi di questa analisi e datemi i vostri pronostici ancora una volta felice Pasqua e come sempre forza ragazzi forza Pisa